Dopo tante restrizioni da pandemia si torna a parlare di eventi, di festival eppure di prime edizioni. Appartiene a questa categoria Marche Storie, festival annuale dei borghi che nascerà a settembre mettendo in rete i tanti piccoli gioielli della nostra regione in una rassegna che intende imprimere una nuova cassa di risonanza di valorizzazione alle aree interne. Un progetto su cui la regione Marche ha investito oltre 7 milioni di euro all'interno di una nuova proposta di legge. Il primo atto concreto di questa legge sarà proprio un festival dei borghi che convolgerà queste realtà attraverso spettacoli, attraverso una festa che appunto metterà in evidenza le tradizioni, metterà in evidenza le storie, i miti, le leggende di questi luoghi straordinari, proprio per far conoscere la storia di questi luoghi, sia ai marchigiani ma anche ai turisti che appunto verranno attratti da questo festival per far ritornare a vivere questi magnifici luoghi. E quindi queste iniziative culturali che saranno disseminate in vari borghi che poi verranno selezionati, circa una ventina, almeno 20 diciamo, saranno tutte iniziative che sono correlate poi dopo all'identità del luogo, alla tradizione, anche alla musica popolare. E quindi ecco, aspettiamo insomma che questa iniziativa sia come un inizio di ritorno a vivere per questi luoghi e per la nostra regione. Queste realtà hanno sempre fatto delle bellissime iniziative ma magari non hanno avuto proprio la forza di comunicarle all'esterno e noi come regione vogliamo dare proprio questo supporto. Dal 21 maggio si apriranno le adesioni dei comuni che vorranno partecipare a Marche Storie. Il festival rientrerà in una serie di azioni strategiche che andranno oltre l'aspetto turistico culturale. Parallelamente si agirà per recuperare ritardi strutturali delle aree interne e arginarne lo spopolamento. Creare un circuito turistico ed economico che punta al rilancio delle aree interne, dei borghi, dei centri storici e a un'economia che rischia di essere sommersa, cioè sommersa che rischia di andare perduta, che è l'economia degli artigiani, della filiera enogastronomica, della ristorazione, della cultura, dei piccoli musei, delle pinagoteche, delle tradizioni, tutta una serie di soggetti e percorsi che possono messi insieme portare la nostra regione ad essere molto competitiva e a destagionalizzare una stagione che purtroppo finora è stata molto concentrata nel periodo estivo o in manifestazioni singole. Le Marche sono la terza regione per numero di cittadini che cambiano stabilmente in residenza e vanno all'estero o in altre regioni. Quindi noi dobbiamo in qualche modo creare una politica anticiclica. Ecco, questa è la risposta concreta. È una legge che taglia trasversalmente più settori perché come è necessario fare in questi casi deve essere data collettività al tema. Cioè ci devono essere competenze che riguardano l'agricoltura, altre che riguardano il commercio, alcune il turismo, altre l'artigianato e soprattutto l'informatica. Perché il ritardo delle infrastrutture tecnologiche in qualche modo incentiva la fuga delle aree interne verso altre località. Quindi dobbiamo assolutamente contrastarlo. In questo modo daremo ai cittadini che vivono nei borghi la possibilità di sentirsi nel posto migliore della terra per poter vivere. Oggi va di moda andare nei posti dove c'è una riconoscibilità internazionale. La Toscana è andata di moda, l'Umbria è andata di moda per certi versi. Ecco, le Marche su queste hanno un ritardo. Per questo abbiamo fatto questa legge perché vogliamo mettere importanti risorse che arriveranno in questa fase dalle risorse regionali e poi da quelle del POR e credo anche da quelle del Recovery su un obiettivo che è quello di rilanciare le nostre bellissime aree interne che però sono abbandonate a se stesse.